Ieri sera ho abbracciato a distanza Beppino Inglaro, ho scambiato con lui qualche parola al telefono nel ricordo di Eluana. Sono trascorsi dieci anni dalla morte della sua figliuola e lui non ha mai smesso di lottare in suo nome. Con noi all'irriverente Beppino Inglaro, proprio qui a Imperia TV, aveva raccontato il calvario della sua adorata figliuola, il suo e quello di sua moglie. Noi ci inchiniamo di fronte a questo padre con la P maiuscola che ha saputo, tra mille difficoltà, far rispettare il volere di una giovane che ben chiaro aveva espresso il suo desiderio, come una sorta di profezia. Non dimentichiamo, Eluana, teniamo vivo il senso di solidarietà nei confronti del suo papà coraggioso. Ma non possiamo nemmeno dimenticare, a solo scopo politico, chi oltraggiò, urlando dai banchi del Parlamento, contro decisioni che in fondo non spettavano a loro. Riuscirono a trasformare un dramma in una battaglia politica senza senso, quando la notizia della morte di Eluana rimbalzò da Palazzo Chigia a Palazzo Madama. Una pagina di cattiva politica, vorremmo dimenticarla, ma ricordandola è pur sempre un modo, e scusate il bisticcio, di ricordare Eluana.